Elura, Regas, Mavala, Sunke Moin della Camera Biancorossa Oggi video ancora on the road perché stavo camminando Commentiamo brevemente quella che sarà la partita di domani contro il Crema, lo Stadio Garilli Sarà una partita fondamentale per invertire la rotta Adesso col nuovo mister Rossini Si spera innanzitutto di cambiare un po' la mentalità di questa squadra Perché in queste prime 11 giornate ho visto una squadra troppe volte spenta, sfilacciata, anche timida Quasi con un timore reverenziale che non mi spiegavo Pur avendo degli interpreti molto forti E soprattutto a questi ultimi mi rivolgo Vorrei che ci fosse oltre che più impegno Perché comunque l'impegno se lo mettono sempre Vorrei che ci fosse sempre quella cattiveria E quella consapevolezza che stiamo giocando Cioè che state giocando in una squadra storica come il Piace Ed è quello che mi aspetto da diversi Che sono in prima squadra A partire dalla gara di domani Domani mancherà Silva Che sicuramente è una presenza che Anzi è un'assenza Che si farà sentire Tre giornate di squalifica Dopo quella rissa che ho già commentato nel video contro il Legnano Che io d'arbitro avrei gestito in maniera diversa Avrei evitato che arrivassero alle mani fin da subito Invece di lasciare che si sfogassero Ma così è stato fatto C'è poco da fare Quindi squalifica di tre giornate anche perché è capitano Iob probabilmente starà fermo Starà fermo questa giornata perché non sta benissimo Quindi difesa totalmente Diciamo inedita con Del Dotto Canale, Boudouin E Santella E davanti soprattutto mi aspetto Una reazione da parte di Recino Che nelle ultime giornate l'ho visto un po' spento Un D'Agostino che anche lui avrà sicuramente voglia di rifarsi E si andrà verso la conferma di Galletti in porta Perché ora deve ancora recuperare E noi siamo in totale Cioè siamo un po' in difficoltà E sono settimane che lo diciamo Speriamo che la gara di domani possa essere decisiva per invertire la rotta Non sarà facile perché contro di noi Tutti vogliono fare la partita della vita Come si diceva Anche il crema che verrà il Garidi Non verrà certo fare la vittima sacrificale Anzi E la cosa che ho notato È che ultimamente Cioè questo campionato Stiamo soffrendo molto di più Le partite in casa Sarà per la pressione Metteteci quello che volete Anche se appunto Cioè se giochi davanti a 1500 persone È molto diverso che giocare davanti a 10.000 persone Quindi questa pressione Mi sembra un po' una scusante Come quello che si sentiva dire l'anno scorso Comunque vedremo cosa accadrà Domani alle due e mezza Saremo presenti allo Stadio Guerilli Speriamo di essere in tanti Anche se so che molti stanno già buttando un po' i rimi in barca E niente Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti Commentate Iscrivetevi Mettete like Condividete il video Vi ringrazio ancora per gli ultimi Per tutte le visualizzazioni Tutti i commenti Tutte le iscrizioni che state facendo Continuate ad iscrivervi Mi raccomando Per far crescere il canale Un caro saluto E sempre forza piace Per far crescere il canale No No